Allora, in questa giornata di formativa odierna l'obiettivo è quello di fornire una sintesi di quello che è un pochino lo stato dell'arte dell'attuale situazione della crisi d'impresa a seguito della sua introduzione con il decreto registrativo del numero 14 del 12 gennaio del 2019 e in seguito al ricevimento della legge delega 155 del 19 ottobre del 2017 che in qualche modo ricepisce e si conforma a tutte quelle che sono la normativa europea con le raccomandazioni del Mione Europea e con la direttiva Insolvency Act. Quindi in realtà, pur essendo un argomento ormai già trattato, l'obiettivo di questa sera è trasferirvi un pochino, sia alla luce di questi due anni, di piena attuazione, perché poi vedremo che il codice della crisi è stato in vigore pienamente solamente nel luglio del 22, e capire poi un attimino anche i nuovi strumenti di regolazione della crisi come in qualche modo hanno effettivamente contribuito a proporre queste soluzioni che il legislatore si proponeva con l'introduzione di questa riforma per uscire dalla crisi, quindi con l'emersione anticipata dello stato di insolvenza e con una traslazione di quello con gli effetti del fallimento nei confronti del debitore, a vantaggio unicamente dello Stato, per invece cercare di, in quest'ottica, di invece aiutare maggiormente l'imprenditore e alla salvaguardia dell'impresa come asset, insomma, come tutela appunto del patrimonio aziendale che va a orte, quindi a livello occupazionale, a tutta una serie di fattori, ed è per questo che il titolo del webinar l'ho intitolato poi l'importanza dell'unitaraggio del going concern, cioè il concetto della continuità aziendale, perché con la riforma del Codice della Crisi in realtà il vero intento del legislatore è proprio questa volontà di fare in modo che l'imprenditore si renda conto tempestivamente dello stato di crisi e adotti quante più opportune misure e strumenti e si avvalga di consulenti qualificati o comunque che si organizzi in un modo tale che possa affrontare un'eventuale immersione della crisi in ottica preventiva e qualora dovesse poi incorrere nella situazione di crisi quindi individuare lo strumento più idoneo, più snello e più efficace ai fini di una corretta regolazione della stessa, della fase di crisi stessa, sperando che appunto la stessa sia reversibile. Quindi come dicevo, l'entrata in vigore, c'è stata nel 15 luglio del 2022, come dicevo c'è stata un'evoluzione storica che dal fondo del diritto sociale del 2005 si è tentato di tutelare maggiormente la produttività dell'impresa i livelli occupozionali in linea appunto con il contesto europeo ed internazionale si è voluto poi sistemare in un modo più organico e complessivo tutta la materia concorsuale che ricordiamo prevede oltre a quella che era la vecchia procedura fallimentare quella che adesso si chiama liquidazione giudiziale tutta una serie di istituti, quale il concorrento preventivo gli accordi di strutturazione del debito, i piani attestati il sovrindebitamento quindi in qualche modo si è deciso di anche uniformare e rendere più sistemico anche tutto il complesso delle norme che regolano la procedura concorsuale il tema fondamentale, come dicevo, è l'emersione anticipata della crisi dove si fa più spesso riferimento a strumenti di controllo sia interno che esterno poi capiamo come si è arrivati ad oggi a queste implementazioni questi strumenti di controllo interno ed esterno e poi l'istituto della composizione negoziata della crisi che ha in qualche modo previsto l'abolizione che ha sostituito e quindi ha abolito quelle che erano le famose procedure di allerta che erano state inizialmente introdotte attenzione però la composizione negoziata in qualche modo non sostituisce appunto probabilmente quelli che sono gli altri strumenti di regolazione della crisi ma è stato un istituto che secondo il legislatore si è reso necessario per diciamo in qualche modo snellire o rendere più efficaci quelle che fare le famose procedure di allerta e gli obblighi di segnalazione e tuttavia permandano però gli strumenti di allerta che poi andremo a vedere alla fine di questa serata quali sono le caratteristiche diciamo che con il codice della crisi di impresa il legislatore ha voluto introdurre sicuramente come dicevo poco anzi un ampliamento degli strumenti di regolazione della crisi a disposizione dell'imprenditore questo perché molto spesso ci troviamo di fronte a una platea di soggetti ovviamente che devono avere requisiti della fallibilità ma che in qualche modo si differenziano per settori economici di attività per dimensioni, per caratteristiche organizzative e quindi una serie di caratteristiche che in qualche modo danno la possibilità all'imprenditore di scegliere tra un ventaglio di strumenti più opportuni dove ovviamente gli advisor qui forniscono un ruolo fondamentale anche per accompagnare la corretta scelta per l'imprenditore inoltre si è potuto garantire una maggiore flessibilità e adattabilità, questo perché? questo per in qualche modo evitare le lungaggini o comunque i tempi molto lunghi riferiti alle procedure diciamo sia concorsuali che quelle fallimentali con il passaggio alle curatele e quant'altro quindi in qualche modo si vuole anche dare una maggiore anche celetà a questo tipo di strumenti perché più velocemente si riesce a risanare l'impresa e ovviamente maggiori sono i vantaggi per tutti anche per gli stakeholders e tutti i creditori o tutti comunque i soggetti economici coinvolti attorno diciamo allo stato di crisi e di insolvenza dell'imprenditore stesso un approccio preventivo che appunto è una caratteristica specifica del nuovo codice della crisi d'impresa e quindi tutto ciò che riguarda un'attenzione da parte degli imprenditori nel governare l'impresa in ottica appunto di continuità aziendale che significa non solo pensare al fatturato al contenimento dei costi eccetera ma significa gestire in una maniera maggiormente qualificata è una dirigenza che potremo passa da quella del buon padre di famiglia appunto a una qualificata e quindi con un approccio che tenga in mente insomma che tenga presente vari strumenti che vadano oltre diciamo il semplice aspetto economico e finanziario il coinveggimento degli stakeholder ovviamente perché dico questo perché con la riforma del codice della crisi diciamo che una forte enfasi è stata data anche alla possibilità del debitore di accordarsi con i principali creditori quindi possono essere questi fornitori dipendenti o agenzie fiscali e previdenziali questo perché sempre nella logica della concorsualità della par condicio creditorum in qualche modo si vuole garantire una certa anche celerità e una maggiore efficientamento una maggiore efficienza sull'ottenimento poi sul superamento della crisi e quindi in qualche modo questi strumenti sono diciamo stati anche introdotti sulla spinta anche di quelli che sono molto spesso i problemi che hanno avuto i creditori sociali che durante le procedure fondamentali molto spesso si trovavano a non ottenere nulla in quanto effettivamente dovuto quindi c'è anche una logica economica che va oltre poi diciamo la semplice procedura e per finire con l'innovazione tecnologica perché dico questo perché inevitabilmente l'innovazione tecnologica attraverso strumenti piattaforme e quant'altro dà la possibilità all'imprenditore di poter gestire in maniera efficiente la propria azienda e quindi provvedere a insomma a dotare la propria azienda di strumenti anche software o comunque qualsiasi tipo di livello tecnologico volto al controllo di questa della sua situazione si parla molto spesso di cruscotti aziendali di software che ti che hanno la possibilità di monitorare alcuni indicatori eccetera e vediamo qua adesso appunto diciamo centrale della trattazione mia questa sera che riguarda appunto il concetto di adeguato assetto organizzativo perché dico questo? perché con l'articolo 375 del codice della crisi l'introduzione diciamo dell'adeguato assetto organizzativo diventa un vero e proprio obbligo quindi in qualche modo con l'allocuzione che l'imprenditore societario o collettivo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rinnovazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale qui dicevo il concetto in coin concern nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione quindi gli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale quindi questo articolo è fondamentale e quello che vorrei trasferirvi oggi è l'importanza che anche dal punto di vista professionale questo ha un impatto per le organizzazioni che seguiamo le società, i nostri clienti o comunque perché in qualche modo anche confrontandomi con colleghi o avvocati ci troviamo di fronte al fatto che a istituire un adeguato assetto organizzativo non ricade più in una facoltà o in una scelta che può fare l'imprenditore per essere più virtuoso ma in realtà in questo momento appunto con la partita luglio 2022 è un vero e proprio obbligo poi ovviamente da qui sappiamo che il cambiamento alla cultura manageriale e aziendale si può sempre in qualche modo scontrare con quello che è la prassi con quello che è la fatica al cambiamento di alcune prassi e di alcune azioni soprattutto se spesso sono imposte dalla legge per quanto riguarda alcuni imprenditori quindi in qualche modo è il nostro compito siamo iniziati a assistere i nostri clienti affinché questo adeguato assetto venga in qualche modo implementato perché dico questo? Perché alla fine poi e lo vedremo in seguito cominciano ad esserci delle sentenze dei tribunali specializzati in materia di imprese che in qualche modo cominciano a pronunciarsi sui bancati adeguati assetto organizzativi fornendo anche magari dichiarimenti su quello che può essere definito come adeguato perché poi qui ovviamente l'adeguatezza solo la giurisprudenza ce lo potrà in qualche modo aiutare a definire in quanto ad oggi si può solamente riferirsi al fatto che l'adeguatezza sta in base alla natura alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dall'azienda quindi concetti abbastanza intuitivi ma anche abbastanza generici quindi dicevo le sentenze che si pronunciano sul mancato assetto organizzativo spesso ricadono poi in sanzioni pesanti anche come azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e quindi un cambiamento diciamo epocale in termini di da questo punto di vista giurisprudenziale in termini di disarciamento del danno nei confronti di mala gestione appunto degli amministratori quindi mentre per esempio la 231 che comunque è ormai è assolutamente più consolidata sta dentro da 20 anni fa e comunque ancora non è obbligatoria se non per alcune dimensioni aziendali o comunque per alcune scelte dell'imprenditore l'adeguato assetto organizzativo con il 2086 del codice civile attualmente rappresenta un obbligo quindi questo non significa che attualmente gli imprenditori non ce li abbiano però è giusto a mio avviso fare un assessment e fare una fotografia di quello che attualmente un imprenditore ha in dotazione o diciamo in qualche modo abbia implementato alla luce di questi due anni dall'introduzione del codice e questo perché l'adeguato assetto organizzativo ministero e contabile dovrebbe quanto meno si presume contribuire a una appunto può permettere all'imprenditore o al suo amministrazione o alla governance di rilevare tempestivamente la crisi e in qualche modo tutelare quello che dicevo prima la logica della continuità aziendale che è la vera e propria che è l'aspetto fondamentale che caratterizza l'impresa in bonus rispetto all'impresa in crisi proseguendo su quanto riguarda gli adeguati assenti organizzativi e quindi sugli obblighi l'altra modifica importante dell'articolo 377 del codice della crisi va a definire la gestione dell'impresa anche questa cosa è fondamentale quindi abbiamo il dovere di istituire e la gestione dell'impresa sono due concetti fondamentali perché si parla adesso di gestione dell'impresa dove racchiude una appunto come dicevo prima all'inizio della trattazione non più una dirigenza richiesta di amministratori del posito un buon padre di famiglia o un buona fede ma si presume una dirigenza qualificata qualificata si intende che chi governa l'azienda deve avere una specifica competenza non deve avere conflitti non deve in qualche modo deve in qualche modo avere una visione che possa essere più possibile strategica a quelle che sono le scelte aziendali sempre nel rispetto nel principio della cosiddetta business judgment rule un concetto a me molto caro perché molto spesso mi è capitato di trattare argomenti rilevanti al sistema di common law come è stato permeato in Italia il concetto della business judgment rule nel senso che ovviamente le scelte gestorie si presumono che sono sempre condotte da una logica e da una certa razionalità per il bene dell'azienda quindi in qualche modo non tutela mai la business judgment rule in caso di gestione diciamo dolosa o comunque che in qualche modo comprometta il bene della società per fini personali eccetera quindi volete se comunque l'imprenditore abbia agito sempre secondo la regola del business judgment rule e la gestione di impresa in qualche modo l'ha provata a gestire in prima qualificata ovvio che questi aspetti risarcitori e quindi di responsabilità vengono meno e invece la malagestio tutto ciò che riguarda la malagestione purtroppo adesso può condannare l'imprenditore quindi il 375 insieme al 377 che modifica l'articolo del codice civile dal 286 e questi altri che vedete sovraimposti impressi rappresentano appunto uno spartiacque tra quello che anche in tema di responsabilità degli amministratori che i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale quindi in qualche modo è fondamentale questo aspetto e vorrei che questo aspetto fosse molto chiaro per quanto riguardi come diciamo la crisi di impresa si introduce nel diritto societario tant'è che a mio avviso la crisi di impresa secondo me è un ambito del diritto societario ma in qualche modo è un aspetto influente del diritto societario proprio perché secondo me con la crisi di impresa non si intende solo l'aspetto patologico che l'impresa sta attraversando bensì dovrebbe essere tutto un corpus di norme che devono essere propri di chi si occupa di diritto societario in ottica di consulenza quindi come appunto come advisor quindi proprio nell'ottica della prevenzione ma soprattutto a maggior ragione perché queste norme sono andate a modificare gli articoli del codice civile e sulla responsabilità degli amministratori come spiegavo Pocanzi loro rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che è diciamo anche su questo aspetto un concetto fondamentale l'adeguato assetto organizzativo prevede delle proprie procedure che devono garantire la tutela del patrimonio sociale in estrema sì poi vedremo successivamente l'azione ovviamente può essere proposta da creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al sui precedenti dei loro crediti e la rinuncia dell'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte sociale poi in realtà le sentenze che la sentenza che vi ho trovato recentemente è una molto recente del 19 gennaio del 2024 in quel caso l'azione di responsabilità è stata mossa dal curatore verso appunto un procedimento di limitazione giudiziale nei confronti degli amministratori che avevano palesemente violato gli obblighi inerenti alla conservazione integrata del patrimonio sociale compiendo una serie di atti di azioni a danno della società depavorando il patrimonio attuando anche delle condotte illeciti di natura anche tributare e quant'altro quindi ecco perché è importante diciamo ecco perché la crisi di impresa ha un dulce binario un aspetto sicuramente civilistico porta a un miglioramento e efficientamento della parte aziendale ma anche da puntista penalistico un'attenzione alla responsabilità degli amministratori e quindi come spiegavo se è accertato la responsabilità degli amministratori il danno si presume essere pari a differenza tra il patrimonio detto alla data di apertura della procedura concorsuale e il patrimonio detto determinato la data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui l'articolo 1484 considerate che in questa sentenza questa diciamo questo danno risarcibile quantificato su questa basato su questa definizione all'interno appunto di una procedura concorsale perché in questo caso era appunto una debilazione giudiziale è stato stimato in circa in oltre un milione di euro il danno degli amministratori quindi capite insomma la portata e la rilevanza dell'articolo 378 ora sugli adeguati assetti organizzativi il focus qual è? il focus è quello di cercare di capire che cosa si intende per l'adeguato assetto organizzativo e come dicevo prima ad oggi non è che abbiamo una chiara definizione sicuramente vanno in qualche modo implementati appunto a seconda della natura della dimensione e dell'attività economica svolta dall'organizzazione per questo che è importante fare una votazione sempre specifica sulla fattispecie concreta sull'azienda che ci troviamo sull'azienda che in qualche modo si trova a volerzi adeguare appunto a questo a questo obbligo quindi in qualche modo il Consiglio nazionale per esempio dei commercialisti e degli esperti contabili ha messo a disposizione una checklist che in qualche modo stabilisce una valutazione di quelli che sono gli adeguati assetti organizzativi è una sorta di test di questionario di circa 20 domande 21 domande che vanno da diciamo da quale se l'impresa è dotata da un funzionigramma se ci sono particolari precedimenti di selezione personale se ci sono se l'impresa è dotata di certificazione di alcune certificazioni se in qualche modo si è implementato il modello 231 e quant'altro quindi ecco questa checklist potrebbe essere utile per una valutazione per l'imprenditore per capire l'importanza oppure il gap che ha rispetto all'importanza di un adeguato assetto organizzativo e quindi per capire se è dotato di un efficace ed efficiente organizzazione aziendale perché l'organizzazione aziendale in qualche modo come dicevo è alla base di tutto ciò che soprattutto un tema di governance è fondamentale affinché diciamo l'impresa tuteli la propria utilità aziendale e in qualche modo sia sempre più performante e si passa quindi come dicevo dall'indirigenza del buonato di famiglia a questa cosita dirigenza qualificata e poi ci sono altri due concetti fondamentali il primo che dicevo sull'adeguatezza sarà la gestidenza man mano con i vari casi ad aiutarci a capire in quali casi si è trattato di un assetto organizzativo oppure in quali casi l'azienda è stata carente ma al di là di questo un altro fattore fondamentale è l'agire da parte della governance e da parte di gestire in cresa in modo informato quindi l'importanza dei flussi informativi per questo che poi c'è un capitolo a parte che ho trattato in questa sera proprio sul workflow management quindi su quanto è importante il processo informativo dei flussi informativi e come questo si può in qualche modo adottare o migliorare nelle aziende che ovviamente già ce l'hanno quindi l'assetto organizzativo in che modo cioè perché nasce sostanzialmente nasce perché ha l'obiettivo di tutelare l'impresa dal punto di vista della strategia di adottare delle strutture delle politiche messe in atto al fine di proteggere l'azienda dai eventuali rischi da crisi e delle eventuali perdite economiche da gestire da squilibri diciamo economico patrimoniali e quindi tendenzialmente gli assetti organizzativi possono riguardare sia degli strumenti sia delle vere e proprie procedure da rispettare ci sono vari esempi a partire da una governance efficace e quindi con membri di consigli di amministrazione che siano indipendenti e competenti come dicevo prima la licenza qualificata tutto ciò che riguarda il risk management e quindi l'analisi della gestione del rischio l'aspetto derivante alla conformità delle normative in questo stiamo in un momento storico in cui c'è anche parecchia enfasi riguardante tutta la possibilità delle aziende di dotarsi di determinate certificazioni che garantiscono i vari reti di legalità sostenibilità e quant'altro non ultimo l'introduzione del whistleblowing il tema SG la logica della sostenibilità le certificazioni di parità di genere alle più consolidate compliance riguardanti la 231 la privacy e l'antiricilaggio beh ecco questo sicuramente aiuta e contribuisce ad avere un adeguato assetto organizzativo ma attenzione sono due cose separate cioè non è detto che se io ho una conformità alla normativa significa che poi necessariamente rispondo di un adeguato assetto organizzativo per questo va sempre analizzata la fattispecie concrete dell'azienda perché magari posso semplicemente essere compliant in un caso di scuola a quello che mi chiede la normativa ma in realtà ci sono delle falle nella gestione nei flussi informativi e nei poteri e nelle deleghe attribuiti poi ad amministratori e dipendenti nella gestione di imprese quindi in qualche modo questi sono degli strumenti che ovviamente vanno valutati nel complesso nella logica della appunto della vita aziendale così come sono importanti le politiche di gestione del personale perché come dicevo prima sarebbe opportuno anche attuare delle politiche distributive e competitive per attrarre e soprattutto trattenere dei talenti chiave sia per lo sviluppo dell'azienda sia in ottica strategica quindi questo è un assetto organizzativo che sarebbe utile in un ufficio del risorso umano di un'azienda così come programmi di sviluppo professionale e formazione professionale continua all'interno dell'azienda stessa per una continua formazione di indipendenti tutto ciò che riguarda la sicurezza informatica ovviamente connessa connessa strettamente alla privacy e che altro dire in maniera della governance è già detta ampiamente l'organo di controllo ovviamente qualora nominato nell'impresa che è in crisi deve ormai adeguare le proprie verifiche controlli sulla base di tutto questo che abbiamo detto quindi sulla valutazione dell'adeguato assetto organizzativo che una volta era quello che era amministrativo e contabile e quindi adesso molto più denso quindi con molti più aspetti da considerare e il tutto sempre nel rispetto della regola della business che ho spiegato poc'anzi che ovviamente non si può sindacare un'eventuale scelta gestoria se non viziata dall'identi nazionalità e logicità però è anche vero che l'adeguato assetto organizzativo può contribuire sicuramente nel far gentire al meglio all'imprenditore quella che è stata anche la sua scelta di un investimento piuttosto di una determinata scelta aziendale che poi probabilmente non si direva opportuna o non si direva positiva per l'azienda quindi si può stare anche questo è il caso però non è che può essere condannato l'imprenditore o il manager dell'azienda se in qualche modo ha fatto una previsione che poi non è andata come si pensava ripeto sempre se non viziata dall'identi razionità illogicità o comunque una certa fraudolenza mi premetto poi di indicarvi l'istituto della mediazione quale istituto giuridico che per la trattativa contrattuali che diciamo di pari passo con il fine della composizione negoziata della crisi può essere uno strumento considerato come adeguato assetto organizzativo dell'impresa questa è una cosa molto importante perché la mediazione è stato sempre un istituto poco praticato comunque e invece a mio avviso in tutti i contratti o comunque con i fornitori e quant'altro istituire o tentare comunque avere come prossimo procedura l'azienda la mediazione che è volta appunto a delimere una controversia ad attuare accordi transattivi potrebbe rilevarsi strategica e funzionale per una corretta gestione dell'impresa e quindi anche questo nell'attività più generale di preventiva di immersione anticipata della crisi ora trattando prendendo un pochino poi al alcuni esempi pratici sulla base di quanto ha spiegato poco anzi i principi di una corretta organizzazione i principi base di una corretta organizzazione aziendale possono desumersi dall'attuazione di best practices cosiddette riferibili quindi a una serie di pratiche o procedure che si intendono attivare nella propria impresa a partire dagli organigramma diciamo di ramati poi in funzionigrammi e al cosiddetto manzionario questo per avere chiaro poi il sistema di potere di dele che come vengono attribuiti sia per fini decisionali sia per fini operativi aggiornare di efficientare i sistemi di procedure e quindi per procedure intendo dire l'attività di programmazione l'attività di pianificazione e di controllo che sembrano soprattutto programmazione e pianificazione possono essere concetti molto simili in realtà lo sono ma c'è un aspetto fondamentale che le differenzia che la programmazione sostanzialmente è un'attività che viene fatta giorno per giorno comunque a breve termine nella pianificazione ha un senso molto più strategico di lunga durata che può prevedere anche un arco temporale di qualche anno e deve essere fatta in modo che questa pianificazione deve essere poi sopportata e ovviamente da un controllo che viene fatto nel corso delle azioni e delle implementazioni da qui il concetto appunto di controllo che non è solamente il controllo di gestione che è appunto un altro tipo di un altro principio di una corretta organizzazione aziendale ma è un controllo che deve tener conto della situazione economica in cui si trova i paesi dove operano aziende in quel periodo se ci sono delle situazioni invece che possono comportare particolari agevolazioni controllo che può essere di natura appunto normativa o una nuova normativa piuttosto che un nuovo riassetto per delle decisioni strategiche diciamo un'attività di controllo è molto più ampia rispetto a semplice attività di controllo di gestione che risulta essere poi fondamentale implementarlo che penso per me quando le aziende lo hanno o internamente o affidandoci ad avvisori esterni perché i budget insieme all'attività di reporting in qualche modo contribuiscono in ottica di crisi di impresa a fornire quel famoso cruscotto aziendale che dicevo poco anzi e ci sono appunto anche dei software che lo fanno ma in generale il senso è quello di in qualche modo estrapolare degli indicatori che nonostante gli indicatori della crisi sono stati in qualche modo abrogati come dicevo prima insieme alle procedure dei sistemi di alerta però in qualche modo ci sono degli indici che per prassi di economia aziendale stabiliscono se l'azienda si trova in crisi o temporaneo scuribile esercizi di scurito finanziario e quindi poi vedremo più in seguito si parla di segnali specifici segnali di allarme ok e non proprio di indicatori di alerta proprio perché gli strumenti di alerta non sono stati aboliti ma sono stati aboliti delle procedure e appunto la previsione adesso tratteremo un po' più approfonditamente dell'istituzione di un idoneo flusso informativo quindi il cosiddetto workflow management che cos'è il workflow management è sostanzialmente si riferisce alla progettazione all'ottimizzazione al controllo dei processi aziendali per garantire un flusso di lavoro efficiente coordinato e conforme agli obiettivi dell'organizzazione attenzione a queste tre definizioni perché molto spesso un imprenditore o comunque un capo di un'azienda o comunque un amministratore unico di una SRL molto spesso autorizza dei pagamenti tramite Whatsapp oppure non sa in quel cantiere chi ci sta in quel momento piuttosto che quell'ordine come è stato fatto non ha preventivi non ha più di un preventivo insomma diciamo a volte c'è un caos dovuto al fatto che non c'è un coordinamento tra chi tra il lavoro e chi diciamo decide per il bene dell'organizzazione per il funzionamento dell'organizzazione e che soprattutto che queste attività vengono fatte in conformità di quello che è gli obiettivi che si pone l'azienda l'organizzazione in ottima di crescia di ottimizzazione e di efficienza di tutto quanto le proprie risorse e quindi per arrivare appunto per perseguire l'oggetto sociale quindi in qualche modo l'agire informato risulta essere una caratteristica fondamentale che l'adeguato assetto organizzativo impone e che la riforma del codice di avvisi impone in tal senso e quindi in tal senso il workflow manager coinvolge l'identificazione delle attività la sequenza delle operazioni la definizione delle responsabilità questo è molto importante e la gestione delle risorse necessarie per portare a termine un compito o uno specifico processo quindi anche in tema di definizione responsabilità molto spesso è importante avere un gestionale o comunque un sistema di implementazione di workflow management perché questo può essere anche utile per chi implementa un modello 231 questo ha un impatto di poco punto su un'eventuale responsabilità di governo l'azienda quindi i flussi informativi hanno questa caratteristica di tutelare in primis chi sta a capo dell'azienda quindi in ottima di decisionale ma in secondo luogo hanno la funzione in ottica di prevenzione della crisi di contribuire quindi a dotare l'azienda di un adeguato asset amministrativo e è appunto volto quindi a una maggiore efficienza e una maggiore tutela e quindi in ottica del going concern e quindi del monitoraggio della stessa continuità aziendale e quindi tra le caratteristiche fondamentali che danno che attribuiscono importanza al processo del flusso informativo abbiamo sicuramente l'efficienza operativa in quanto attraverso l'implementazione del workflow management abbiamo un'ottimizzazione dei processi aziendali si riducono i tempi di esecuzione e l'uso delle risorse vengono eliminate attività superfue e si vengono ottimizzate sequenze di operazioni per massimizzare la produttività complessiva via il controllo della tracciabilità che questa cosa è fondamentale in quanto via una visione chiara e dettagliata dello stato dei processi in corso ci pensiamo a tutte le aziende che operano con i sal nel stato avanzamento lavori con gli appalti questa questa logica è fondamentale consente quindi anche di monitorare il progresso dell'attività e identificare eventuali blocchi o ritardi in modo tempestivo questo anche perché è fondamentale perché una qualsiasi amministrazione di un'azienda ad un certo livello sa che tutto il processo poi è legato all'elemento della fatturazione dell'incasso che scaturisce il credo del cliente eccetera quindi tutto un processo virtuoso che se si blocca perché non c'è un giusto monitoraggio si perde un tassello ovvio questa parla conseguenza anche economica e da qui appunto potrebbe essere anche potenzialmente un indicatore di allerta in quest'ottica quindi poi quello che viene detto alla standardizzazione e consistenza nel senso che vengono assicurate che le attività vengono eseguite in un modo uniforme standard e conforme a quello che si è deciso come strategia aziendale riducendo quindi il rischio di error umani e di garantire la correnza e i risultati finali per questo che ovviamente per ridurre i rischi dei error umani vengono generalmente poi adottati dei sistemi tecnologici digitali che possano essere d'aiuto customizzati ovviamente all'esigenza aziendale e da qui abbiamo anche l'importanza del workflow management passa anche per l'assegnazione ottimale delle risorse e quindi si riesce ad assegnare le risorse in termini di persone tempo e denaro in modo più possibile efficace e in mirato all'attività da perseguire e quindi l'ottimizzazione delle risorse dovrebbe teoricamente garantire la riduzione dei sprechi e dovrebbero migliorare l'efficacia complessiva dell'organizzazione qui è un tema molto ampio anche in tema di sostenibilità perché se pensiamo all'impatto ambientale o alla governance eccetera sicuramente il tema dell'SG sicuramente può essere diciamo un elemento importante l'adattabilità e la scalabilità in quanto il workflow manager consente di adattare e modificare i processi in base anche alle esigenze e all'evoluzione dell'organizzazione stessa e quindi all'eventuale crescita consentendo quindi una rapida implementazione di nuovi processi la compliance e la gestione dei rischi come dicevo prima si può anche inserire un sistema porto a creare degli alert in tema di gestione del rischio e di attuare quelli che sono i provvedimenti per mitigare quanto più possibile la situazione che si trova ad affrontare l'azienda in emergenza così come ad adeguarsi alla conformità delle nuove leggi e in sostanza è il miglioramento continuo cioè il workflow manager consente di fornire dati e metriche utili per la protezione dei processi e identificare ovviamente le aree di miglioramento e quindi il miglioramento continuo non può che aumentare l'efficienza operativa e la qualità dei risultati ovviamente questo è tutto in ottica diciamo di continuità aziendale ma il workflow manager può inserire nella logica dell'adeguato assetto organizzativo che insiste che ho dovuto dare l'importanza in questa serata di questa trattazione può invece far emergere dei gap delle inefficienze degli sprechi cioè può anche evidenziare un qualcosa che non va che non funziona e quindi è questo che è il concetto di adeguato assetto perché l'adeguato assetto non deve semplicemente garantire l'efficientamento ma in termini sempre di miglioramento continuo ma potrebbe essere anche volto a individuare precocemente quello che non funziona e siccome si proviamo di fronte alla normativa che ha come oggetto e come obiettivo l'emersione anticipata della crisi è per questo che il workflow manager è considerato come uno degli strumenti di adeguati assetto organizzativo per passare alla trattazione poi dell'ultima parte del webinar di questa sera passo velocemente a trattare quella che è stata l'introduzione della composizione negoziata e l'abolizione della procedura di allerta perché in qualche modo per come era stata inizialmente disciplina dal legislatore ci si è trovati di fronte a dei meccanismi soprattutto poi dopo il periodo covid e quant'altro che avrebbero forse portato all'effetto opposto e quindi a troppe segnalazioni anche a difficoltà da parte dell'organo di controllo nel dover in qualche modo assumere l'incarico in aziende visto questo peso che comunque ancora hanno ma diversamente perché in qualche modo come vedremo poi successivamente la segnalazione del suo organo di controllo spetta diciamo riguarda l'imprenditore per attivare appunto la composizione negoziata e è diciamo stato uno strumento che ad oggi e lo dico anche in qualità di esperto nominato in alcune procedure l'effetto non è stato qualcosa positivo o meglio sicuramente l'intento è positivo molto spesso però ci troviamo di fronte a situazioni in cui questo dico soprattutto per l'esperienza il ciclo creditorio è talmente vasto e talmente a volte importante che molto spesso anche nelle tempistiche non si riesce ad ottenere il fine che si vuole e quindi il trattativo con i creditori è il buon esito per il strumento della crisi e questo poi è l'obiettivo della composizione negoziata quindi perché dico questo perché lo strumento di composizione negoziata è uno strumento di natura volontaria quindi è l'imprenditore che l'attiva è negoziale quindi in qualche modo è caratterizzato dall'aspetto contrattuale volta agli accordi transattivi che si possono fare con la maggioranza dei venditori ovviamente e di natura stragiudiziale quindi al di là del tribunale che interviene solo per in caso di richiesta delle misure protettive che non sto qui oggi ad approfondire in qualche modo ha una natura stragiudiziale che dovrebbe rendere in qualche modo più snella e dovrebbe incentivare di più sia l'imprenditore ma anche i creditori a trovare un accordo per cercare di assicurare la continuità aziendale per intesa come valore completo del patrimonio e sia per vedersi i creditori soddisfatti rispetto alla sicuramente situazione peggiorativa in caso di liquidazione giudiziale perché quindi come dicevo è attivata la selezione dell'imprenditore e che si trova in uno stato di difficoltà economico-finanziare che dovrebbe essere temporane è stato esterito un registro verso la camera di commercio ed è stato poi identificato un ruolo dell'esperto che dovrebbe essere appunto terzo indipendente e porta a garantire che le trattative tra creditori e l'imprenditore vengano svolti nel rispetto del principio di buona fede della trasparenza della correttezza dei rapporti ma soprattutto con l'intento che insieme si vuole arrivare al suo entro della crisi quindi la negoziazione con il centro di un orio risulta essere una fase fondamentale di questa di questa composizione di questa procedura e nonostante poi c'è una fase veramente burocratica che riguarda tutta la documentazione da presentare come il bilancio degli ultimi esercizi l'elenco dei creditori un piano finanziario che garantisca il piano di risalimento in un'ottica di lungo periodo altre informazioni sull'esercizio di libitoria vari certificati di regolarità fiscale e contributiva eccetera quindi c'è una fase burocratica però la fase centrale è sicuramente l'enfasi alla negoziazione con il celebitore e come dicevo alla luce di questi quando è stata introdotta alla luce di questi anni posso dire che almeno dal punto di vista per il personale la difficoltà maggiore è stata non tanto nel garantire il fatto che l'azienda poteva risanarsi ma nella tempistica e nel fatto che molto spesso in procedure molto grandi il tempo non aiutava nel perfezionare le negoziazioni con tutti i legitori altri casi invece sono stati evidentemente anticipatori e dilatatori di altri strumenti di regolazione perché noi sappiamo che siccome la composizione negoziata non è considerata uno strumento di regolazione della crisi previsto dal codice quindi come il concondato l'accordo di istrutturazione debili eccetera e molto spesso alcune aziende utilizzano lo strumento della composizione negoziata per andare avanti altri 6 mesi e poi traghettare il concordato e così via quindi in qualche modo a volte ci si trova anche di fronte a queste situazioni quando quindi nella nella composizione negoziata diciamo la questo commento che vorrei fare è che la maggior parte delle difficoltà oltre a questo è stato è stato quello di aver individuato nella carenza gestionale di gestione proprio dei manager che governava l'azienda che hanno scaturito la crisi questo è un elemento che ha fatto molto riflettere perché al di là delle strutture degli impianti del mercato delle politiche di prezzi eccetera di base alla base della crisi emergeva invece un po' una carenza di quello che erano le competenze e le visioni del management quindi in qualche modo a maggior ragione abbiamo visto la finalità della riforma pienamente centrata con l'obiettivo di superare la crisi di impresa in ottica appunto di consulenziale non in ottica solo patologica di fase patologica proprio perché si vuole far capire attribuendo la responsabilità degli amministratori in maniera più pervasiva attraverso appunto il dovere di adeguati assetti organizzativi in sostanza è quello di far gestire meglio l'azienda e come dicevo prima la gestione dell'azienda con le adeguate assetti organizzativi ha il fine di tutelare quello che è il go in conserve e la continuità aziendale passa anche per tutte quelle che sono le procedure di conservazione del patrimonio sociale perché come abbiamo come ben sappiamo agli amministratori è data la gestione dell'azienda che è un complesso di beni che ha una serie di asset strategici fondamentali che passano da quelli materiali come brevetti macchine concessione licenze know-how ovviamente e quant'altro ha in questi tipi materiali che in cui impianti industriali sono un asset fondamentale ma tutta anche la gestione delle rimanenze dei prodotti finiti in merci fino all'assette dei crediti alla gestione dei crediti e ovviamente al pagamento dei debiti quindi capite come l'adeguato assetto organizzativo e la procedura di composizione negoziata come un ulteriore strumento volto al percepimento della continuità aziendale devono essere diciamo inquadrati secondo questa impostazione e questa finalità altrimenti non cambia molto in sostanza rispetto a quello che ci troviamo di fronte diciamo alla gestione delle crisi di antiriforma come dicevo e poi vado a conclusione così c'è spazio per queste domande e per un confronto non sono state abolite le bruciaglie di allerta ma permangono gli strumenti di allerta dove per strumenti di allerta si intendono questi come dicevo prima indizi o comunque segnali specifici di allarme che possono essere i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni debiti per soccorridori scaduti e non pagati appunto da almeno 90 giorni ritardo dei pagamenti nei confronti di colore che hanno l'obbligo di segnalazione come creditori qualificati quindi agenzie delle entrate in serena e quindi il famoso pagamento dell'IVA già potrebbe essere un segnale di allerta così come i contributi previdenziali ecco questi sono stati aboliti quindi abrogati quello che era il concetto indicatore della crisi ma permangono questi segnali di allarme e i segnali di allarme possono emergere da una banale o comunque più approfondita analisi economico aziendale che la dottrina aziendalistica ci mette a disposizione quindi con i vari indici di bilancio i vari le varie attività di programmazione e controllo che permettono l'emersione di queste eventuali anomalie come dicevo prima permane e questo è come la conclusione permane quindi la finalità del legislatore di mettere a disposizione dell'imprenditore una serie di obblighi e strumenti porti alla precoce elevazione di segnali di crisi e alla conseguente emersione anticipata dello stato di insolvenza irreversibile perché ricordiamo la irreversibilità è quella che poi mette nei guai l'imprenditore e si vedrà le porte poi l'apertura della liquidazione giudiziale ma prima di in qualche modo c'è ancora la possibilità di chiterare il going concern si parla di emersione anticipata dello stato di insolvenza che appunto dovrebbe essere reversibile perché appunto temporaneo questo è è quanto vi ringrazio per la vostra attenzione potete contattarmi alla mail del centro studi a questo indirizzo che potete impressione oppure attraverso la Askeri Academy come anche altre volte è stato fatto che potete anche attraverso che potete l'imposte attraverso Grazie a tutti.